Deve aprire così in maniera, un po' con una certa responsabilità questa manifestazione e pensate un po' chi ha maggior ragione proprio per questo, chiedo a voi il doppio applauso perché il primo fisarmonicista ha bisogno proprio del supporto del pubblico di Riotorto, per voi il maestro Roberto Fazzi! Non voglio sentire di più l'applauso, così è un po' più, già meglio, già meglio, bene, bene. Allora, il nostro Roberto porta con sé una bella beltuna che tra le altre cose se non sbaglio è anche abbastanza nuova come fisarmonica e il maestro Roberto Fazzi ci presenta, ah diciamo che fin da subito ogni fisarmonicista su questo palco questa sera presenta due brani che poi vanno in rotazione per ripresentarsi poi in un giro successivo dove invece ciascuno di loro andrà a presentare un singolo brano. E i brani, i primi due brani che il maestro Roberto Fazzi ci va a presentare vogliono un po' onorare uno dei più grandi fisarmonicisti non solo a tiratura nazionale ma sicuramente internazionali che siano mai esistiti, il grande maestro Venturi che proprio quest'anno, il 12 di giugno, pensate un po', ha compiuto 70 anni, eh? 70 anni io al quale vorrei veramente rivolgere perché ha rappresentato molto per quanto riguarda la musica italiana e internazionale soprattutto per quella che è la grande musica e soprattutto la grande fisarmonica. Signori per voi il maestro Roberto Fazzi che ci va a presentare come dicevo appunto due brani del grande maestro Venturi, un bel valser intitolato alla castellina e una polca, la litigata. Per voi l'applauso al maestro Roberto Fazzi. Fazzi! Applauso al maestro 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.